buongiorno a tutte e a tutti è tantissimo tempo che non ci vediamo e devo dire che tutte queste nostre conversazioni su pittori e artisti in genere un po strani mi mancano moltissimo spero che manchino anche a voi tra l'altro avevamo in programma per tutti di parlare di susan valadon che un'altra è un altro personaggio estremamente importante però c'era rimasto in sospeso per vico forte pan yuliang covid nasce in cina noi chiudiamo forse l'esperienza covide speriamo con una pittrice cinese che appunto ed è che appunto è pan yuliang ed è oltretutto un grosso messaggio di speranza perché se una che nasce come prostituta tredicenne riesce a vincere borse di studio in francia in italia ad acquisire una fama mondiale abbiamo delle speranze anche noi questa l'anno abbiamo dovuto proseguire un altro programma di rencontre attraverso le conferenze virtuose e abbiamo trovato che non è così male che questo non è così male che in definitiva quindi abbiamo deciso di guardare questa modalità ma non c'è problema abbiamo continuato le rencontre in presenza abbiamo fatto gli aperitivi anche sicuramente quindi io vi dono il rendevo a quest'automne a la rentrata e entretanto vi voglio bene vacanze e bonos anni Grazie.